ciao ciao elena grazie del di aver accettato il nostro invito anche così in mezzo a immagino giornate molto 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 frenetiche dico due cose su di te e poi partiamo con questa veloce chiacchierata e nella mazzola è presidente dell'ang emmaus che operava proprio a opera diciamo che usiamo ancora l'indicativo presente a kharkiv una delle sue esperienze che forse anche alcuni di noi conoscono già la casa volante elena ha una storia di molto lunga di rapporto di legame con le realtà dell'est prima da studente ha studiato il russo in università poi da studiosa e da persona che ha lavorato anche presso università a mosca e poi negli ultimi anni in proprio in ucraina e si trovava proprio in una città di quelle più sofferenti più bombardate più in difficoltà in questo momento nell'est dell'ucraina che è kharkiv qualche giorno prima della dell'inizio dell'invasione della della russia ha intuito insieme con altre persone con cui guida l'esperienza di emus e poi in particolare della casa volante che le cose si stavano mettendo male male e quindi da racconti che adesso sintetizzo ha deciso di hanno deciso di spostarsi già verso leopoli e poi pochi giorni dopo che è iniziata la guerra hanno attraversato il confine con alcune delle donne che hanno aiutato con alcuni anche dei ragazzi c'era anche un bambino molto piccolo non con gli uomini che come sapete sono stati trattenuti in in ucraina e adesso è in italia a elena vogliamo chiedere questo siamo a scuola e in tante nostre scuole abbiamo studenti di origine ucraina stanno arrivando esperienza mi chiamano in questi giorni tanti colleghi ad esempio della provincia di varese stiamo lavorando anche su un progetto di accoglienza più generale stanno arrivando anche tanti bambini piccoli che frequenteranno per almeno per i prossimi mesi le nostre scuole per cui al di là delle questioni burocratiche ci sono delle domande che ci toccano da vicino quello che ci chiediamo è ma dopo i mesi di pandemia di fronte agli orrori perché veramente sono delle cose mostruose quello che stiamo vedendo della guerra sembra che sia difficile poter sostenere una certezza e una speranza che sono però essenziali per il lavoro dell'educare cioè dell'introdurre positivamente nella realtà allora ti vogliamo chiedere elena innanzitutto che cosa vuol dire per te ripartire ogni giorno in mezzo a questa situazione così difficile cosa vuol dire ripartire pensando anche di avere una responsabilità nei confronti di donne e di ragazzi che ti sono affidati giorno per giorno qui e rapporti che ti sono affidati ancora la grazie a Elena di essere qui con noi ciao Paolo buongiorno a tutti intanto grazie dell'introduzione perfetta non è sempre così e lo dico già rispondendo alla domanda perché io credo che la prima cosa che dobbiamo tutti fare è imparare a guardare ascoltare stare molto attenti alla realtà che parla in modo molto chiaro e noi abbiamo spesso questo problema di pensare già di sapere come sono le cose e per cui di non riuscire a sentire veramente la voce dell'altro questo che cosa vuol dire per me ad esempio adesso io sto ancora adesso accogliendo pian piano amici che arrivano dopo essere stati a differenza di me settimane settimane sotto le bombe persone che io conosco da tempo amici proprio amici con cui siamo stati in contatto in dialogo tutto questo periodo ma persone che arrivano e è difficile riconoscerle è difficile riconoscere perché è successo qualche cosa per cui io sono davanti a una persona che non è quella che avevo in mente prima cioè per faccio un esempio una mia amica arrivata tre giorni fa e investita in una bellissima tuta rosa e io mi sono accorta che è in tutto questo mese in cui noi ogni tanto ci siamo viste via skype era sempre in quella tuta e l'ho detto ma scusa ma andiamo a comprare qualcosa e lei mi ha detto non sono ancora pronta io tutto questo tempo mi sono sentita protetta dentro come questo involucro per cui la sera la lavavo e poi me la mettevo addosso queste sono persone sane di mente ma che hanno subito un trauma tale per cui per entrare in rapporto e rendersi conto davvero di chi ho davanti io devo avere l'umiltà come no di rispettare i suoi tempi di ascoltare di chiedere di raccontare quando l'altro è pronto ecco questa è una cosa che per me è molto importante imparare a dare spazio a ascoltare io non so quando le persone che state accogliendo avranno il coraggio e il desiderio di dirvi chi sono e quello che hanno vissuto ma sicuramente questa posizione di mettersi come si dice biblicamente in ginocchio davanti togliersi i sandali e mettersi in ginocchio davanti all'altro davanti al mistero che è l'altro e al mistero di quello che sta capitando secondo me questa è adesso la posizione fondamentale la seconda cosa che volevo dire rispetto alla questione educativa è che anche rispetto a tutta la storia della pandemia penso che con la pandemia si è venuta fuori in modo molto chiaro adesso esplode in modo ancora più evidente è questa io credo che per educare a una speranza a una positività non si possa che partire dalla realtà e non c'è niente di quello che c'è nella realtà e verificare che non c'è niente di quello che c'è nella realtà o meglio verificare se è vero che non c'è niente di quello che c'è nella realtà che rende questa speranza impossibile cioè che la annulla nella realtà c'è il male nella realtà c'è la morte per me è molto evidente che per tanto tempo abbiamo la cultura dominante ha cercato come di togliere dalla realtà per esempio il dramma della morte e forse per anche i ragazzi forse anche per i ragazzi questo aspetto è stato distruttivo per cui poi quando tu ti trovi a far fronte ad affrontare un dato che però c'è c'è che l'uomo che la vita dell'uomo apparentemente si conclude con la morte se tutta la cultura se gli adulti intorno non sanno cos'è la morte hanno paura di affrontare la morte questo distruggerà forse anche come sta facendo anche psicologicamente i ragazzi per me la speranza è un adulto che è capace di guardare in faccia un ragazzino vivendo tutto il dramma il dolore le domande ma le domande vere il grido che uno ha dentro quando si trova davanti alla morte ma di guardarlo con di guardare il ragazzino dicendo ma io io vedo qualcosa che è più forte della morte e te lo posso testimoniare anche dentro le lacrime non come dire io so già la risposta ma io io vivo cercando questo qualcosa che risponde alla morte e posso dirti guarda guarda piango con te ma dico l'ultima cosa da questo punto di vista perché siete insegnanti presti di insegnanti insomma il vostro mondo è quello della scuola io mentre partivo mentre mi stavo preparando no a gennaio quando ho capito che la guerra molto probabilmente sarebbe scoppiata stavo facendo il mio lavoro il mio lavoro è sempre tradurre e in particolare c'è questo progetto che noi facciamo con l'associazione italiana il mondo parla che si occupa di ermeneutica letteraria è partito con la professoressa casacchina dostoieschi poi ho fatto un grande lavoro su manzoni adesso stiamo facendo molto harry potter veramente certo io sto facendo delle lezioni su harry potter in varie e mentre appunto tra valigie parto non parto salvo i ragazzi come ci muoviamo io stavo rileggendo per la sesta volta harry potter per preparare queste lezioni ed è stato pazzesco perché noi dobbiamo chiederci ma perché per i ragazzi per tantissimi ragazzi la saga di harry potter è così importante no? perché la amano? perché perché sono così? ma guardate che quello è un testo che parla della vita e della morte di perché vale la pena vivere di perché vale la pena morire di se va bene vivere a tutti i costi oppure c'è qualcosa per cui la morte non è il nemico ultimo perché c'è qualcosa di più per cui vale la pena anche lottare a me ha fatto impressione perché io non me ne sono resa conto subito mentre preparavo le lezioni ma quel leggere così studiare preparare quelle lezioni su quel testo mi ha aiutata tantissimo a decidere come muovermi nel reale anche nelle scelte che io ho preso rispetto ai miei ragazzi e rispetto a tutto quello che ho fatto e non so è per dire che dentro nel lavoro della scuola c'è una possibilità immensa di parlare della vita della morte del dolore e anche di accorgerci che i nostri ragazzi è vero che non c'è più certezza i ragazzi sentono sentono che hanno bisogno di coraggio di guardare queste cose e sperano che ci sia una certezza penso che il problema sia più nostro che loro mi sembra adesso l'hai già l'hai già introtto c'è anche un tema di verità ti chiederai questo perché il tema della verità e il tema della giustizia rischia di essere un crinale particolare su cui come dire il punto è un dibattito argomentativo su qualcosa è giusto su qualcosa è sbagliato mi sembra che anche questo sia un rischio che spesso si corre e cioè è un rischio di un relativismo cioè io ti offro offro ai miei studenti in virtù di un pluralismo qualsiasi posizione e poi dopo valuta tu che cosa è giusto e che cosa è sbagliato al netto del fatto che chiaramente la posizione di dire questo è giusto e questo è sbagliato è una posizione dell'io personale e uno deve avere gli strumenti però nello stesso tempo introdurre con relativismo la realtà non è introdurre un giudizio ecco magari su questo se ci puoi aiutare per quello che stai capendo mi sembra molto importante sulla tua pelle in queste settimane te ne sono grado io adesso sono in un posto bellissimo sono a Novazza in montagna sono arrivata qui e per giorni non mi sono neanche resa conto di avere intorno una bellezza così evidente mi ricordo che una mattina a un certo punto sono uscita e ho detto sono proprio circondata dalle montagne e sono circondata da persone meravigliose che ci stanno accogliendo con una gratuità ma non solo una gratuità cioè proprio un amore a ognuna di noi così personale così attento così esorbitante che uno dice ma com'è che io esco sul terrazzo tutti i giorni e non mi accorgo che ci sono le montagne mi ricordo la mattina in cui me ne sono accorta e ho proprio detto oh ma ancora ieri che poi c'è stato qualche giorno brutto tempo ha pure nevicato che per me non è proprio il massimo ma ieri di nuovo c'era una giornata limpidissima e ieri sera sono uscita sul terrazzo e le ho viste ancora di più o salendo in macchina e di nuovo è stato lo stupore di dire ma a te guarda la realtà c'è la realtà esiste innanzitutto non c'è qualcosa di vero di più grande di me di reale di più grande di me e di tutto il mio dolore e di quello che io impazzisco leggendo le notizie impazzisco sentendo gli amici in Ucraina che mi raccontano quello che sta accadendo o sapendoli in pericolo impazzisco ancora di più come ti accennavo prima sentendo che nel dialogo tra noi c'è ancora così tanta ideologia cioè come dire sì sembra che la realtà sia quella ma io so che potrebbe anche essere un'altra e questo mi fa uscire di testa proprio letteralmente però è vero che io posso avere davanti la realtà bella e non vederla e allora io mi domando io dico c'è bisogno credo c'è bisogno anche di una grande coscienza della nostra essere limitati del fatto che non siamo capaci di vedere le cose che tante volte proprio non ci riusciamo a vedere le cose anche quando sono così evidenti e questo lo dico perché io penso che rispetto a tutta la questione della verità della giustizia della libertà che possono diventare tu dicevi di un crinale sottile e pericoloso io mi accorgo di quanto può diventare violenza qualsiasi dialogo tra noi su questi temi no anche di quanto tutto può diventare subito tentativo di affermazione di sé di quello che io vedo che è giusto di quello che io ritengo essere vero giusto di quello che io ritengo essere la libertà no si può si può dire fare di tutto ma c'è una cosa che è radicalmente diversa ed è il fatto da tutto il resto ed è il fatto che il mio cuore di che cosa ha bisogno il mio cuore la che il mio cuore si accorge quando c'è qualche cosa di assolutamente corrispondente corrispondente anche al fatto che io non riesco a tenere un certo livello non ci riesco non ci riescono anche davanti alle montagne però però accade un dialogo uno che viene per esempio qua c'è un'amica che io prima conoscevo su Facebook e lei a volte mi dice delle cose proprio mi guarda e mi dice guarda che bella questa giornata che ci è stata data e io che ero tutta presa dal mio dolore alzo gli occhi e guardo ecco per me questo rimettere tanto gli occhi sull'umano sull'umano per questo prima dicevo queste persone che arrivano ci sono ci sono bisogna guardarsi i ragazzi con cui voi entrate in rapporto quando entrate in classe i colleghi un miliardo di cose ma proprio l'umano l'umano il cuore perché perché poi il resto pian piano nonostante tutti i nostri limiti da qualche parte entra sempre ma non siamo noi a tenere in piedi tutto quello che dicevo prima sul lavoro che noi facciamo abbiamo imparato a fare con la casacchina di lettura che è questo suo metodo di lettura da soggetto a soggetto per cui tutto è vivo il testo è vivo il testo parla e per cui la posizione vera del ricercatore e quindi anche dell'educatore è innanzitutto una umiltà davanti al soggetto dell'altro pensa cosa vuol dire per gli insegnanti che normalmente entriano in classe davanti ai ragazzi ci sono gli insegnanti la materia i ragazzi e gli insegnanti io sono sopra io sono quello che deve mentre noi stiamo imparando io le sarò grata per sempre una cosa pazzesca che ti dice ma esiste questo oggetto diciamo adesso per adesso oggetto ci sono io e ci sono i ragazzi e io dico che cos'è questo oggetto e io dico è una bottiglia con su scritto pineta perché qua c'è scritto pineta i ragazzi leggono e dicono è una bottiglia con su scritto e dicono quello che c'è scritto qua e molto spesso che cosa accade accade che io dico ma no ma tu non capisci niente c'è scritto pineta e l'altro dice no ma sei tu che non capisci ma cosa sei cieco c'è scritto un'altra cosa e che la verità abbia a che fare con una totalità che è invisibile non si può letteralmente vedere se io non ammetto il punto di vista dell'altro se io non ammetto che quello che vede l'altro io non lo posso vedere dal mio punto di vista letteralmente fisicamente e quindi che l'altro per me è una possibilità di arricchimento della mia visione della realtà della mia visione della verità totale cioè proprio io senza di te non potrei vedere qualcosa ecco queste per me sono è bello eh sì bellissimo grazie grazie mille Elena senti ti chiedo soltanto una cosa telegrafica un altro un altro minuto c'è qualcosa che da casa dall'Italia possiamo fare per per te per l'esperienza di Emmaus per l'esperienza di chi adesso è in Ucraina è qualcosa come dire anche da suggerire a noi che adesso facciamo questi tre giorni di convegno e poi torniamo ognuno nelle nostre cento scuole che dirigiamo o con cui lavoriamo partire dal cuore nel senso più non riesco a dirlo bene lo dico con un esempio no perché adesso ho sentito un po' di discorsi così no come dire dobbiamo capire chi sono gli ucraini per accoglierli in modo giusto invece a me è capitato quasi di botto proprio distinto un po' per come sono stata accolta io un po' per probabilmente per qualcosa che avevo già io chiaro nel cuore di accorgermi che c'è c'è un bisogno che non è solo il bisogno di avere una casa di avere dei vestiti di avere del cibo ma è bisogno di avere di più quando io sono arrivata l'ho detto già in vari incontri hanno iniziato a regalarmi le persone che mi accolgono qua che mi hanno dato la casa il cibo tutto quello che è casa per tutti le mie amiche così ma mi hanno regalato dei bagnoschium cose meraviglie io non ho mai avuto delle cose così belle perché questi che già ci stanno dando tutto ci danno cose così belle oppure il mio amico padre Aleksandr che è a Kerson parroco in una chiesa distrutta che dice io non sono un prete non so che prete sono vado in giro a comprare la carta igienica e gli assorbenti e per le non abbiamo il cibo e questi mi chiedono queste cose e io gli dico ma padre ma scusa ma la dignità l'uomo l'uomo di cosa ha bisogno l'uomo gli ho detto guarda ti mando io i soldi apposta per queste cose comprali le più belle e lui in un secondo mi dice il rossetto di Don Giussani e ecco questa cosa rispetto all'accoglienza per me è fondamentale ma è fondamentale rispetto anche alla logica della guerra perché che noi possiamo dire pariamo i colpi della guerra accogliamo i profughi facciamo i campi profughi tutto vero tutto bello tutto necessario perché ma che cosa può rispondere a quel livello di ferocia di crudeltà di morte di orrore che c'è adesso e io dico sono un amore senza misura che è l'amore di Cristo e l'amore di Cristo ha dentro una belle cioè guarda l'uomo e vede nell'uomo una cosa così bella da far piangere ecco io penso che questo come modalità di guardare le persone che adesso arrivano sia importante grazie 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 davvero Elena per il tempo che ci hai dedicato e grazie perché ci hai aiutato a cioè ci hai dato delle ipotesi degli strumenti per poter stare di fronte in questi giorni a quello che ci capita ma innanzitutto ricordandoci che la prima cosa è proprio questa stare di fronte a quello che capita senza mettere davanti un'idea un'ideologia di fronte alle persone e alle cose e a quello che succede grazie ancora dopodiché se quando questa guerra finirà Kharkov sarà ancora abitabile dovrete tutti aiutarci a ricostruire perché noi vogliamo tornare a ricostruire bellissimo Elena sono già lì guarda lo sai